Musica Allievi della scuola 2 in volo con le frecce tricolori Lo European Air Transport Command compie 10 anni Concorso per l'Accademia Aeronautica Rispondiamo ai vostri quesiti in diretta su Facebook Musica Bentornati all'appuntamento con Video News Volare con le frecce tricolori e provare le emozioni del volo acrobatico è di certo un'esperienza che rimarrà nel cuore dei quattro allievi della scuola militare aeronautica Giulio Due che hanno avuto l'opportunità di vivere questo entusiasmante momento Gli allievi di cui vi stiamo per parlare frequentano l'ultimo anno dell'istituto militare fiorentino dell'aeronautica militare Sognano un futuro nell'arma azzurra ed ora possono dire di averne conosciuto una delle realtà più amate Scelti per il merito nel loro rendimento di allievi quattro giovani del corso Omega sono stati premiati con una giornata da trascorrere nella casa del 313esimo gruppo addestramento acrobatico meglio conosciuto come frecce tricolori La loro giornata nell'aeroporto friulano di Rivolto è iniziata con un briefing mattutino che fornisce ai piloti tutte le informazioni sulle condizioni meteorologiche e aeroportuali necessarie per la loro attività di volo Seguiti da piloti e specialisti gli allievi hanno avuto poi il primo contatto con il velivolo MB339 e dopo aver appreso le procedure da applicare in caso di emergenza hanno potuto godersi il volo in piena sicurezza Quindi il momento tanto atteso chiuso il tettuccio e staccate le ruote dalla pista i giovani passeggeri hanno provato le emozioni delle evoluzioni acrobatiche in formazione Io e altri colleghi abbiamo avuto la possibilità di effettuare un volo sulle frecce tricolori devo dire che è stata un'esperienza unica e spero che anche altri studenti possano poi provare queste bellissime emozioni Una volta a terra i ragazzi visibilmente emozionati hanno visitato l'area museale delle frecce tricolori ripercorrendo attraverso le immagini le 60 stagioni acrobatiche del gruppo che saranno celebrate proprio a rivolto il 19 e 20 settembre prossimi con una grande manifestazione aerea aperta al pubblico Lo European Air Transport Command di cui l'aeronautica militare fa parte sin dal 2014 festeggia quest'anno il suo decimo anniversario Nato il primo settembre 2010 per sopperire alle necessità del trasporto aereo militare migliorando nell'efficienza, l'interoperabilità e la flessibilità lo European Air Transport Command è un organismo multinazionale che assicura missioni di trasporto aereo rifornimento in volo ed evacuazioni mediche ai paesi membri senza soluzione di continuità ed in tutto il mondo Il comando che ha sede in Olanda e in Doven è attualmente costituito da sette aeronautiche di paesi europei tra cui quella italiana L'aeronautica militare con l'adesione all'European Air Transport Command ha trasferito il controllo operativo di una gran parte della sua flotta da trasporto i KC 767A del 14esimo stormo di pratica di mare e i C-130J o C-27J della 46esima brigata aerea di Pisa offrendo così alle nazioni partecipanti le proprie capacità di rifornimento in volo, trasporto aereo e trasporto in biocontenimento Sebbene una delle ultime nazioni ad aderire al progetto l'aeronautica militare ricopre posizioni di primissimo piano tra cui quella di vicecomandante Dieci anni di sviluppo e successi per questo comando europeo che ha gradualmente ed efficacemente adottato soluzioni che garantiscono l'impiego di una flotta comune di circa 170 aeromobili di 20 diverse tipologie grazie all'applicazione del concetto di pooling and sharing nel settore del trasporto aereo militare Se vuoi partecipare al concorso per entrare in Accademia Aeronautica ma hai qualche dubbio sui requisiti, sulla domanda di partecipazione o altro ancora devi sapere che lunedì 27 gennaio il personale dell'ufficio concorsi dell'Accademia Aeronautica risponderà sulla pagina Facebook dell'Aeronautica Militare in diretta dalle ore 14.30 alle 15 Ricordiamo che la data di scadenza della domanda di partecipazione è stata fissata per il 31 gennaio 2020 Video News vi dà appuntamento alla prossima edizione Buon weekend! 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 Buon weekend!